Ehi bella gente! Oggi faremo una mappa diversa dal solito, cioè una mappa parkour. Ehm, comunque direi di iniziare subito, Franz. Ok, allora, io vado. Start. Sono Franz. Eh, eh, eh. Ovviamente, chimico è scavso. No, tu sei scavso. Secondo me cadi prima tu. Mmh, certo. Sì! Silenzio da tryharding. Allora, signori, se io sto in silenzio è perché devo fare una cosa. Prova, uno, due, tre. Orco. No, mi stai superando, questa cosa non mi piace. Oddio! Oh mio Dio, sono più bravo di Franz per la prima volta in tutta la mia vita. Oddio, santissimo. Orco! No, dai, porca... Abdull, amo viva! Oddio, ce l'ho fatta! Ah, sì! Intanto io sono già a livello 3. Abdull, dai, a fare la TV. Ce l'ho fatta tante in abbondanza, che nego, e cresce la panza. Ahahahah! One, two, three, four, can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you! Ok, ce l'ho fatta. Sono ancora nel nether. Oh, cavolo. Oh, car spin the nether. Oddio, ma che chiud... Ma benissimo! Benissimo! Ma che è sto pazzo? Sto pazzo animale! Porco due! Dai! Ma tu sei troppo in alto! Ma dove andiamo a fare qua? Ma tu non te ne studi mai la mappa prima di partere? No! Perché? Ma fra, ora cosa devo fare qua? Eh... Chidi a barbagiano. Affanculo, tu e il tuo barbagiano. Ah, tu mi di l'alga con la carota nel tuo inventario? Sì. Bene, clicca la prima. No. Hai la seconda? Clicca la seconda? No! Sei tranquillante? Perché si è scritto restarter e respawner. Vabbè, respawner. Oh, ce l'ho fatta. Solo Luisa? No, ma da vera adesso io ti do lo spettacolo. Vabbè, allora mi guardo le novità di UBS. Affanculo, va. Ragazzi, se lui è così tanto, mi tocca vedere un video di dieci minuti. Ok. E se tra dieci minuti non sei qua, vuole sbirle. No! Solo Luisa! Si vuole sbirle, capito? Le sbirle. Puoi vedere un attimo? Uh! Ah, ma ci sono gli sli... Ah! 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 Dietro di te? Boh, non lo so io. Però guarda dietro di te? No, aspetta. Sto guardando un video. Intanto tu vai avanti. Ehm, mo? Ehm... Fiiiis! Ah, ok. Ah! No! Ah! Ah! No! Ah! Ah! Vabbè, 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 vabbè. Perchè sei un pezzo di cacchia e te lo hai? Ah! S'è andata a scantare! No, devo rifare tutto. Ricorda... Mmm! 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 Ma quando decide di diventare una moto gp? Ragazzi, potete di iscriverti a questo ragazzo? No, grazie. Facciamo arrivare al mio canale, almeno a... Che so? In descrizione. C'ho la macchina, sono neopatentato, vabbaculo. Grazie. Come cazzo hai fatto? Sono neopatentato. Comunque faccio l'auto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. E poi se noi ci vediamo... Sono caduto ancora di tutto, ma... Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.